Febbre e altra giornata di shooting del video oggi. Secondo voi adesso, se io voglio darvi un consiglio di un medicinare che mi ha fatto passare l'influenza, devo mettere l'hashtag ADV Advertising Sponsored by. I consigli della nonna ormai vanno fatti con ADV. Tutto procede secondo i piani, io ho i gormiti in corpo e sono contento. Due video girati in una settimana, settimana prossima vado a Los Angeles e finisco tutte le voci dell'album nuovo. Però intanto adesso giochiamo a scopa!